Adrian Kalel Rednik Non è quello il mio secondo nome, però sì Raul, lo so, lo so, me l'hai mandato il tuo documento, quindi lo so, so tutto di te Sì, volevo farla abbattuta alla Ted Mosby Autore, narratore, youtuber, creatore di contenuti E un tizio che va in live su Twitch in canotta E io sono offeso dal fatto che tu non sia in canotta quest'oggi, cazzo Non ne avevo di lavate Beh, allora non sono più offeso, va bene così Cioè questa è la risposta più da uomo indipendente che ti possa dare Non le avevo lavate Molto, molto on point Cogitiamo, che dici? Cogitiamo? Di che cazzo parliamo? Non lo so, di tutto il cazzo che vuoi Scopriamolo dopo la sigla Bravo Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Dupin E ti non ascolta È cibo per gli zombie È Cristo Molto bene, questa Cogitata parte con le migliori, migliori previsioni Come stai? Sto bene, sto bene Stai bene, in quelli di Torino che si dice? Un cazzo, un po' depresso Dalla situazione Ma in realtà vado avanti bene, dai Lavoro poco per fortuna Che riesco a... Beh, effettivamente tu lavorando comunque con la nerd culture Cioè, in quest'anno è uscito talmente tanta roba Che ormai non so più Sì, sì, però Diciamo che io in realtà cerco di non concentrarmi troppo troppo sulle... No, è stupido dire che non mi concentro sulle cose mainstream Diciamo che ho più i miei argomenti Sì Però non sono mai stato un recensore o cose del genere Cosa che dopo sei anni ancora la gente non ha capito E dice, quando fai la recensione di Wonder Woman? Quando cazzo ho fatto recensioni? Mai! Da dove è venuta sta cosa? Ma la gente non ha capito che tu non sei un recensore E non ha capito che non imiti la voce di Yotobi Sotto i tuoi video vedo un sacco di gente che fa Ma perché imiti l'accento di Yotobi? Allora, a parte questo Io ho capito che la cosa era andata oltre Quando la mia ragazza Ha detto perché imiti Kalel Perché la gente non riesce a capire Che sia un accento locale torinese Voi non avete... A Torino? Io lo saprei A Torino non esiste l'accento Non ce l'avete A Torino sono tutti Yotobi Tutti Yotobi A Torino c'è l'accento di Yotobi È bellissima questa cosa È bellissima Ormai ci ho fatto l'abitudine Senti, mi ha interessato il fatto Allora, tu sei un narratore Uno scrittore Hai pubblicato la prima parte Di quella che dovrebbe essere una trilogia Dovrebbe 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 con asterisco in basso E tu a un certo punto Hai fatto anche delle storie pubbliche In cui hai detto Oh ragazzi, durante il lockdown È un casino Ok? E mi interessa questa cosa qua La creatività In un momento di depressione Secondo tante persone Diventa una valvola di sfogo E invece non è così Assolutamente no Credo che dipenda da molti aspetti Da che tipo di creativo Che tipo di creazione fai tu Perché per esempio I video Bene o male Quelli riesco a farli sempre È una cosa che mi piace un sacco Quella per me è una valvola di sfogo effettiva Che mi permette di creare In canotta Vabbè, nei video no Cioè potessi lo farei Però Già una volta ho fatto A volte vi faccio in pigiama Perché non lo sbatta di cambiarmi E io Questo Per davvero Ho una maglia del pigiama Che mi ha regalato mia sorella Con scritto sex bomb Sopra E io ho fatto Un video sponsorizzato Non mi ricordo per chi Ma siccome la telecamera Mi prendeva solo da qui Io l'ho fatto con una maglia Scritto sex sopra Per tutto il tempo E io non me lo Io ho fatto Non monetizzato Da ogni piattaforma Poi mi ero scritto Perché c'è la maglia sexy Vabbè raga Perché mi piace il sesso Esatto Comunque Appunto dicevo Quello è Molto più semplice Per quel che mi riguarda Perché Non è una creazione Che parte da zero Ma parte con il prendere Dei paletti E costruire qualcosa Sopra una struttura Che c'è già È una struttura Che ho già buttato In sei Sette anni di Carriera Non è vero Però facciamo finta Mentre invece Per me che scrivo Quella è una creazione Che parte da zero Certo E dove soprattutto Serve l'ispirazione Se devo fare un video L'ispirazione mi serve Fino a un certo punto Perché comunque Cacchio ne so Se faccio la retrospettiva Di un film Devo parlare di quel film Devo analizzarlo Devo eh Ci va un lavoro di creatività Perché comunque Devo metterci i miei pensieri I miei ragionamenti Però è molto più semplice È un lavoro di commento Più grande Esatto Mentre invece Il lavoro di creazione È totalmente diverso Soprattutto perché Devi essere Nel mood Mentale Psicologico Corretto per avere Il desiderio Di creare Però questo Questo è un punto Interessante Se ripensi A quando Anche perché Il tuo primo libro Quante sono Sono 700 pagine 700 pagine Cazzo Dici Per arrivare Io quando penso Quando penso alle cose Che scriverò Se qualcuno mi dice Tu scriverai 700 pagine Dico no no Cazzo Piuttosto vado Vado a suonare L'ukulele in Mongolia Adesso anch'io Io lo dico Adesso lo dico anch'io Dici anche tu Per arrivare a scrivere Una cosa di 700 pagine Serve non solo un mood Serve Cioè ci vuole Ci vuole Ci vuole una missione Cazzo Cioè ci vuole una missione Cos'è che ti ha portato Secondo te ovviamente Sì no lo so benissimo A quello E che oggi ti manca Era Ma un sacco di Era Avere Meno preoccupazioni Cioè Per riassumere il tutto Perché Perché il primo libro L'avevo scritto Un po' di anni fa Abitavo ancora con i miei Sì Era nel periodo Cioè Allora è stato un po' particolare Perché Avevo cominciato l'università E Al contempo Ho anche cominciato a scrivere E Ma Piano piano Siccome quello che stavo facendo Mi piaceva scrivere Certo E soprattutto Cosa molto più importante Era una testa di cazzo Che non aveva idea Di come funzionava l'editoria Eri No nel senso che Adesso so che è una merda Prima non lo sapevo Cioè Questo è il fatto Eri l'ingenmo sognatore Esatto E tu dicevi No che figo Sai che bello scrivere Fare di questo il tuo lavoro Che cazzo fai il lavoro di scrittore In questo paese Cioè sono tre Che lo fanno E basta Leggevo un articolo Sono otto le persone Che in Italia Vivono di sola scrittura Esatto Quindi solo scrivendo lì Basterebbe Credo che quello andrebbe diretto A qualsiasi aspirante scrittore Assolutamente Gli mozzi le gambe Però almeno Gli fai capire Come stanno le cose Il bagno di realtà Esatto E appunto Io Non sapevo questa cosa Cioè sapevo Comunque che l'editoria Fosse difficile Perché questo lo dicono sempre Però non sapevo quanto Sì E diciamo appunto Che l'idea di base Era Io ero proprio partito A dire Vorrei provare a fare questo E avevo cominciato L'università Stavo scrivendo Mi piaceva tanto Quello che stavo facendo No in realtà L'università mi piaceva Per quel pochissimo Che ho fatto Lingua e letteratura straniere Perché ho fatto un semestre Poi era tutto in merda Però poi ho detto Mi sono proprio messo davanti E detto Non è questo che voglio fare Cioè ho guardato l'università E ho detto Non è quello che voglio fare Nella vita Quello che voglio fare È scrivere Sì Come sorrido All'ingeno di qualche anno fa Ogni volta che dico Adesso Quando raccontavo queste cose Fino a un paio di anni fa Era qualcosa sai Di ispirazionale Adesso è Dio Dio La mia vita Che mi sfugge Questo è un punto interessante Perché tu stai dicendo Due cose Che credo che siano Estremamente importanti Uno Per scrivere ci vuole Una naività Ok Un'ingenuità Particolare Che ovviamente Quando poi incontri Il mondo dell'editoria In parte sparisce E la seconda cosa Che hai detto Che è un'altra Bella Pesante È Bisogna Essere sereni Per scrivere Sai noi In Italia Si è sviluppato Questo Questo cliché Dello scrittore maledetto Che invece deve essere Tormentato Perseguitato Avere i demoni dentro Per partorire qualcosa di buono Invece tu dici No Devo essere sereno Quando scrivo Esatto Ma più che altro Perché devi alienarti Quando scrivi Non sei più tu Sei quello che stai scrivendo Sei i personaggi Che stai scrivendo Sei Non lo so La divinità oniscente Che sta regolando Quel mondo Come fai ad alienarti Se hai i tuoi problemi Che ti tirano giù Cioè Per come la vedo io È banalmente così Però quello che stavo dicendo Appunto È che Ho lasciato perdere L'università Perché ho detto Vabbè Avevo 19 anni Certo Provo a fare questa cosa Ci dedico Che ne so Uno o due anni Se vai in merda Amen Torna all'università Tanto abitavo ancora con i miei Non avevo responsabilità Nel nulla Ovviamente i miei non è che fossero Molto contenti l'idea Perché penso che nessun genitore Sia contento Però cogli l'opportunità Sì sì È giusto Però ho fatto il cazzo che mi pareva Essenzialmente Cioè È la mia vita Non voglio sentire nulla Faccio quel che mi pare Ciao Ed era la solita cosa Dicevo Se va male Torna indietro E vado all'università Faccio il resto E quindi Ho scritto Avendo Dedicando La quasi totalità del tempo Perché si facevo i video E quello ok Perché è una cosa che mi piaceva fare Mi è sempre piaciuto fare E Continua a farmi piacere Però avevo molto più tempo Da dedicarci Perché scrive Quando scrive il primo libro Scrivevo praticamente tutto il giorno Sì sì E non avevo Alcuna Come dire Responsabilità Abitavo con i miei Non mi dovevo prendere cura della casa Se non ho quelle poche cose che facevo Non dovevo Cucinare Neanche più Cioè Avevo tutto Sì Tutto il tempo libero Era effettivamente mio Cioè Quando mi svegliavo Quando andavo a dormire Avevo tutto il tempo per me E quindi Mi è stato Relativamente facile Buttare fuori Settecento pagine Anche perché era Un'introduzione Quindi quando scrivi Cioè Se fai una saga È il primo libro Il più semplice Almeno per questo Introduzione di settecento pagine Peggio dei saggi filosofici Che vengono pubblicati oggi Però C'hai anche Hai quella Come dire Quella gioia Nel creare ogni cosa nuova Sì 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 Mentre invece dopo È Esattamente come un figlio Cioè Quando nasce Dici Oh che bene Poi dopo Arrivi che devi dire Cosa faccio Di sta roba Cosa faccio di questa creatura Devo guidarla Devo portarla avanti Devo assicurarmi Che tutto si sposi Non posso più metterla nel frullatore Vedere cosa ne viene fuori È un po' è tardi ormai Sì sì Ho presente Ho presente Quindi diventa molto più stressante Poi va bene Nel frattempo sono andato a vivere da solo Cioè Youtube è diventato effettivamente Il mio lavoro al cento per cento Su cui ho dovuto Dedicarmi maggiormente Per una questione di qualità Di tempo Anche tutti i lavori Sponsorizzazione Cioè Sono subentrato Un sacco di altre cose Che mi hanno preso meno tempo Prenditi cura della casa Prenditi cura del gatto Che ha pisciato in un angolo Perché è scemo Solite cose Che ti rubano tanto tempo E In realtà Io ero abbastanza tranquillo Mentalmente Per quel che riguardava La mia vita Prima che tutto andasse in malora Perché poi Io Allora Quando È partita la pandemia Quando c'è stato il primo lockdown Io sono stato a casa da solo Completamente da solo Per tre mesi E mi ricordo che me l'hai raccontato Sono stato Io E Grazie a Dio La mia gatta Che mi ha salvato Un po' la sanità mentale Perché se no Sarei finito a parlare Con probabilmente Il tostapane Che non avevo Un tostapane immaginario Dici Uno deve inventarsi Un amico immaginario Il tostapane Cioè Almeno inventati Non sono a porno star No Il tostapane No Dico Dico Non ci avevo Perché Qualche giorno fa C'è stato il mio Io e la mia ragazza Io ho fatto due anni di anniversario E mi hai regalato un tostapane Auguri Grazie Perché volevo un tostapane Mi mancava Per questo Sto ancora pensando al tostapane Spettacolo Ok Perfetto Stiamo già creando la storia E questo in realtà È il secondo episodio Del tuo romanzo Questo che sta prendendo piede Comunque Stare da solo È stato È stata una bella batosta Ma più che altro Non tantissimo quello Perché comunque Io Lavorando da casa Stavo spesso da solo Non è stato un problema Cioè Non è andato così tanto Il lockdown Interrompere I miei ritmi quotidiani Però Sai Non potevo più uscire Non potevo vedere gli amici Non potevo vedere la mia ragazza Perché Anche se abitavamo Tipo a 15 km di distanza Eravamo in due comuni diversi Ok E quindi È stato Sono stati Quei due o tre mesi Veramente lunghi In cui sono stato da solo Tosti E anche dopo Si è stati molto limitati Figurati Io in Piemonti Siamo stati In zona rossa Arancione Quel che era Per mesi e mesi Giusto adesso Qualche settimana fa Siamo diventati arancioni E scusami gialli E in generale Questa cosa è andata Tantissima a minare La mia creatività Perché Le mie idee Le mie creazioni La mia ispirazione Veniva spesso proprio Mentre ero in giro Certo Magari facevo un viaggio Guardavo fuori dal Finanza del treno E mi venivano certe idee Magari passeggiavo Cioè Sono le solite cose Stando sempre in casa Non avendo stimoli esterni Da casa Ovviamente queste cose Sono venute Molto meno E Poi Anche Una cosa che ha fatto molto Assolutamente E che non è da prendere Sotto gamba E Anche è stato Diciamo L'aspetto Monetario Del tutto Perché mi sono reso conto Cioè Avevo cominciato Maggiormente a capire Che L'editoria è un mondo di merda Comunque la mette Puoi avere un po' di fortuna E basta Cioè Non c'è nulla Puoi avere un po' di fortuna Se hai degli editori E hai un buon rapporto Hai delle cose Ma nel 90% dei casi Non è così E I soldi Non ne fai Assolutamente Non ne fai E quindi Era diventata Proprio una questione Che dicevo Non lo faccio Per la fama Non lo faccio Per i soldi Lo faccio solo Per il mio piacere personale Certo Però se io in quel momento Non mi sentivo di scrivere Non aveva alcun senso Sforzarmi Perché non ce n'era ragione Sai Questa cosa qua Tu hai detto una cosa prima Con cui mi trovo Parzialmente in disaccordo Tu hai detto Quando uno scrive Si estranea Ok Si aliena Ma non è che in realtà Quello che stai Che hai vissuto È l'esatta prova Che in realtà Quando scrivi Sei ancora di più te stesso E il fatto che oggi tu Sì Abbia scritto quelle 700 pagine Non è perché tu ti sei alienato Ma perché tu hai messo Il te stesso di allora Certo E tu sei cambiato È vero Cioè L'esperienza che abbiamo fatto Io guarda L'ho visto su di me In maniera eclatante L'esperienza che abbiamo fatto Nel 2020 Ci ha cambiato In modo radicale In modo personale Psicologico Perché siamo entrati In contatto Con un'esperienza Che ha reso Il mondo di prima Letteralmente un ricordo Magari poi si tornerà Alla normalità Come si dice Si tornerà Sono convinto Ma noi saremo persone diverse Rispetto a quella normalità E quindi questo secondo me È la prova che Quando tu scrivi Sei ancora di più te stesso È forse È il fatto che sei cambiato Che ti porta a questo scarto Certo Poi sai cos'è un'altra cosa Come dire Il problema più grande È che è venuta a mancare La gratificazione Perché In seguito alla Alla pubblicazione Del primo libro Anche io Sai ho fatto i miei giri Ho fatto firma copie Sono andato a incontrare persone E sono cose che Ti fanno grandissimo piacere Della ragione principale Per cui lo fai Alla fine Scrivi una storia Perché vuoi che gli altri La leggano E scrivi una storia Perché vuoi che gli altri Provino delle emozioni Quindi quando poi quelle emozioni Te le restituiscono direttamente È la cosa più bella E gratificante del mondo Sono d'accordo Ovviamente Le cose si sono interrotte Non ci sono stati più contatti Nel nulla E quel desi Cioè quel fuoco Che ti mandava avanti Ovviamente è venuto Molto meno Sì sì Ed è stato Anche questo Il fatto che Soprattutto con l'inizio Del lockdown Per fortuna Ho avuto Un'impennata su youtube Youtube Ho iniziato ad andare meglio E quindi Ho anche un po' scelto Di investirmi maggiormente lì Perché avevo Un ritorno Molto più diretto Certo Molto più gratificante Sì gratificante Sia dal punto di vista personale Che monetario Che di avanzamento Tutto quello che vuoi Mentre invece Dall'altro lato Non c'era nulla Però è un surrogato Sì È un surrogato È quello che guarda Io ti capisco perché noi Durante il primo lockdown Abbiamo aperto twitch È diventato subito Un grande divertimento Però cazzo quanto mi manca Andare a fare le cose a teatro A fare le presentazioni Quella roba lì Proprio mi manca da morire Mi rendo conto che È esattamente come Cioè faccio un parallelismo Come l'insegnamento Di persona Non è come la DAD Allo stesso modo La gratificazione che tu hai Attraverso l'online Che è preziosa Noi in queste giorni Stiamo avendo un enorme Però cavolo Incontrare le persone Lì in loco E sentirle respirare Ridere e partecipare È tutta un'altra cosa Ma guarda Infatti anch'io Twitch l'avevo ripreso Proprio durante il lockdown Ah sì Ed era una cosa che Mi faceva stare un sacco bene Perché ogni sera Andavi lì Si era creata quella community Appunto era un po' come Ritrovarsi al bar con gli amici Ed era una cosa che aiutava molto Venendo a mancare Tutte queste cose Ovviamente È stato molto più Difficile Ed è proprio quello Che dico In questo momento Ora come ora Nelle mie giornate Mi piace lavorare Mi piace quello che faccio E lo faccio volentieri Però non sento Proprio zero Spinta Poi a volte capita Ci capitano certi Qualche Tipo la scorsa settimana All'improvviso Non so perché Mi è venuta una scena in mente Che non è neanche collegata A tutto quello che avevo scritto Fino a quel momento Però è una scena Che mi piaceva così tanto Per come l'ho immaginata Mi sono messo lì Ho buttato 7-8 pagine In due ore E E poi ho chiuso lì Ho sentito quella scena Ed ero soddisfatto Però sono cose che Vengono poco Sì 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 Perché mi è venuta quella cosa Perché il giorno prima Ero uscito Ero andato a pranzo con la mia ragazza E siamo fatti un giro in centro Stimoli Sì sono stimoli Certo È una cosa per cui Devi Devi avere quei stimoli Devi avere Devi fare delle esperienze Devi fare delle esperienze E non basta Entrare in contatto Con le storie di altri Perché poi Durante il lockdown Un'altra grande fortuna È stata di aver avuto Netflix Prime Dicendo che voglio dire Ogni tanto io ripenso A tutto ciò che abbiamo consumato Nel 2020 Perché è stato tantissimo Tipo si è impennato La fruizione di contenuti online E penso Mi chiedo Quante delle cose Che abbiamo consumato Nel 2020 Ci resteranno Perché io personalmente Ho consumato cose In modo talmente frenetico Da non essermi Dato La pazienza Di metabolizzarle Certe cose Questa cosa qua Mi fa molto riflettere E credo che Lo stesso sia avvalso per te Cioè nel senso È stato un'esplosione In quei mesi Ma a parte questo In realtà ti dirò Devo dire Che ho anche Dei bei ricordi Del lockdown Per quanto può essere Per certi versi Perché comunque Io sono un videogiocatore E quindi durante il lockdown Che eravamo tutti in casa Ho stretto Ho stretto molto Dei rapporti anche Con amici Che sì Ci conoscevamo già Però con cui ho stretto Maggiormente Perché magari sai Tutte le sere Eravamo insieme In chiamata Giocavamo insieme Si facevamo in gruppo E si sono creati Dei rapporti Anche abbastanza forti E questa è stata Una cosa molto bella Che è stata permessa Proprio dal lockdown Quindi alla fine Come esseri umani La nostra qualità più grande È che ci adattiamo sempre E questo ne è stata una cosa Poi Faccio l'anima sua Anche al mattino Svegliarsi Rick Aprimi sta cazzo Di porta Su Animal Crossing Che devo venire Che figata Ma che figata Quello è stato molto figo Ragazzi Su Animal Crossing Io ho ancora Sulla mia switch Poi te la faccio vedere La foto In cui sono venuto A visitare il tuo bagno Ci sei tu In canotta Nella tua cosa E io ho seduto Sul water Che festeggio È una scena Bellissima Bellissima Animal Crossing A marzo È stata la salvezza La salvezza veramente Fantastico Fantastico E anche Anche i videogiochi Che effettivamente io Durante il lockdown Ho a parte Animal Crossing Però per esempio Ho recuperato cose Come To The Moon Che l'ho giocato anche Fenomenale Ho promesso di fare Il daily cogito Su To The Moon L'ho giocato a giugno Devo ancora farlo Renditi conto Quindi sicuramente lo faccio Perché adesso Mi è venuto in mente E poi Non so se ti è capitato Adesso Uscendo dal discorso lockdown Io sto finendo Death Stranding Tu l'hai giocato Io non ancora Sai che mi ha fatto venire L'emicrania Death Stranding Ti giuro Io lunedì Allora Gioco Io è il primo gioco Che faccio di Kojima Non ho mai giocato In Metal Gear Quindi Ovviamente Capisci L'ego del personaggio Quando nei titoli Di testa Vedi Hideo Kojima 45 volte E già lì dici Attenzione Sta succedendo qualcosa Gioco bellissimo Bellissimo Te lo consiglio Il gameplay È sorprendente Perché pur essendo Ripetitivo Ti coinvolgi In un modo incredibile Però non finisce mai Non finisce mai Arrivi a un certo punto Ora non spoilerò nulla Ma arrivi a un certo punto In cui dici Ah ok Questo è il finale Sicuramente Ha tutte le caratteristiche Di un finale E poi parte Un'altra parte del gioco E tu stai lì Dici Va bene Andiamo avanti Poi arriva un altro Che dici Questo è il finale Ci sono pure i titoli di coda Ed è lentissimo E invece c'è un altro pezzo E mi è venuto in mente questo Adesso devo finirlo Lo finirò Anche perché voglio farci Una puntata Quante volte Le opere narrative Vengono rovinate Dalla logorrea Del proprio opere Ma è la stessa ragione Per cui Ho Red Red Redemption 2 Che l'ho cominciato Bellissimo Mi è piaciuto da morire Quei tipo ho giocato Una decina di ore Poi ho detto Mi sono reso conto Che era troppo lungo Non ho il tempo adesso Mentale di dedicarlo E l'ho messo da parte Lo voglio assolutamente Recuperare prima o poi E lì Però non ho il tempo mentale Da dedicarci adesso Non finiva più Ti dico solo 90 ore di gioco Per finire la storyline In principale Lasciando un sacco Di missioni secondarie Capolavoro Ma se fosse durato La metà E questo esatto problema Di cui ha parlato È l'esatta ragione Per cui moltissime serie Non le recupererò mai Certo Mi dicono spesso Hai visto Supernatural? No Non ho intenzione di vederlo Sono 49 stagioni di 15 stagioni Una roba del genere E non ho intenzione Di dedicarci Tutto questo tempo Perché Perché mi posso vedere 12 serie più corte Nel frattempo E variare E godermi le cose La lunghezza È spesso un problema Questa cosa qua Ultimamente Siamo stati colpiti Dai Soprano Non so se l'hai visto Non l'ho ancora Però voglio recuperarlo Io ho preso persino i DVD Perché tutti mi dicono Ah i Soprano Devi vederlo Incredibile Ho detto va bene Le abbiamo presi per Natale Durante le vacanze Cominciata È bella Però non sento la spinta A dire Vado fino alla settima stagione È quello che manca Quando hai di fronte Anche perché È una serie Che tipo ha 15 puntate Per stagione Quindi è Bella Anche quella Logorroica A me Io mi sono reso conto Ultimamente Che Ho proprio questa sindrome Della paura Di cominciare nuove serie Perché non ho voglia Di dedicarmici E finisco col fare Rewatch Di serie già viste O Ultimamente sto guardando Quasi solo serie comedy Perché sono più leggerne Non mi ci devo impegnare Posso Posso guardarle Di sottofondo Mentre cucino Mentre faccio altro Posso Anche se Arrivo alla Quinta stagione Di Modern Family Lo mollo Non è che dico Vabbè non è arrivato alla fine Certo Ti capisco perché Le ultime serie Guarda adesso stiamo facendo Il rewatch di Doctor House E le ultime serie viste Sono Il rewatch di The Office E anche io l'ho appena finito Perfetto Rewatch di Boardwalk Empire Mai visto il Boardwalk Empire? Una serie tv preferita Capolavoro totale Lì sono cinque stagioni Quindi è E sono dieci puntate Quindi non sono tantissime puntate Ma è Capolavoro totale Se ti capita Recuperalo Perché veramente Con uno Steve Buscemi Meraviglioso Costumi più belli Della storia Della serie tv E anche poi Peaky Blinders Quindi sono stati tutti I rewatch Io ho finito il 2020 E parto il 2021 Con rewatch Eh ma sai perché fai Cioè è proprio una questione psicologica Perché tu guardi una cosa Che sai che ti piace Sì sì Perché dici Perché investire 40 ore Nel mio tempo Su qualcosa Che poi magari Arriva alla fine Mi fa cagare Sì sì Game of Thrones No no Non si dicono queste cose Non si dicono queste cose Mi dissocio E solo perché Prima hai detto Che non ti sei beccato Una vera shitstorm Adesso la stai cercando A tutti i costi Ammettilo 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 Brami la shitstorm Le lascio agli esperti Senti qua Ma tutti i rumor Che si sono sentiti Invece ultimamente Su Harry Potter Tu com'è che li vedi? Tipo che si sta lavorando All'ottavo libro Che si sta lavorando a I rumor sono Sono Vabbè Non è questione Di questione rumor Perché è proprio questo Cioè Partiamo dal presupposto Che dà molto fastidio Non so neanche come definirle Perché non è giornalismo per me Ma Gli articoli su internet Che fanno Notizia Che è un'unica parola Gli articoli su internet Cioè è proprio una categoria Sì 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 Che fanno notizie su Le non notizie Soltanto ovviamente Per accaparare Like click Quel che è E È quello che ho detto anch'io Quando è cominciata Giusto qualche settimana fa Che circolava sta notizia Del fatto che HBO Max Stava producendo Una serie tv Su Harry Potter Cioè La notizia è che Stando a voci di corridoio Tipo Mio cugino Mi ha detto Bellissimo Che si stanno radunando Possibili Una possibile Un possibile team Per pensare Una possibile serie Su Un possibile Una possibile storia Ambientata in Harry Potter Nell'universo di Harry Potter E Tutti quelli a cui hanno chiesto Tutte le HBO Tutti quanti hanno detto No non è vero Non sta succedendo E io dico Dove è la notizia? Magari l'ha detta proprio Harry Potter Cioè nel senso Fonte diretta Cioè perché Dico Ma anche fosse che Stanno cominciando A sviluppare Dove è la notizia? È una cosa che se va bene Vedremo fa Tre anni Sì 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 È una non notizia Cioè è come se mi dicessi Che appunto Che la Rolling Sta pensando di scrivere Un altro libro Finché non c'è Finché non ci avviciniamo Non Sai questa cosa Come mi fa pensare Io mi ricordo due anni fa Quando arriva il rumor Della serie tv sul Silmarillion Sì Tu non ti rendi conto Del fatto che io Sono anni Che per esempio Amorbo Ari Dicendo Il mio sogno È una serie tv sul Silmarillion Ma non lo faranno mai Ma no ma c'è C'è E beh è sul Silmarillion Quella di Amazon È sulla seconda era Perché io se dico Silmarillion Penso proprio All'increazione Arda Oh no no certo Però è seconda era Quindi Numenor Ok quello sì Dagor Dagor Avete via dicendo No no perché ci sono molte persone Che vorrebbero proprio Sull'aulindale Ma che cazzo fai Fai una serie Fai un'orchestra Da quel punto Di non fai una serie tv Ok quello sì No no però Cioè nel senso è Fra il Silmarillion E le appendici Del Signore degli Anelli Mi ricordo Quando è venuto a fare Questa notizia Era un rumor Di cui nessuno Dava conferma All'inizio Però è stato bellissimo Seguirla fino in fondo Cioè nel senso E adesso tu Che aspettative hai su quella Cos'è che ti aspetti Dalla serie Signore degli Anelli Sì che peraltro Esce all'inizio Dell'anno prossimo Teoricamente Ma è anche lì È la stessa solita cosa Tutti Dico Non abbiamo Niente Su cui Nessun metro di giudizio Per farci anche solo un'idea Perché non c'è Una foto Non c'è un trailer Non c'è Ma neanche una foto del set Un costume Zero C'è un'idea Siamo al trailer di Avengers C'è C'è un'idea L'unica cosa che abbiamo visto È stata la mappa Ed è stata figa Quella cosa Non ti ricordi Quando l'account Twitter Sì certo Aveva cominciato a dare gli indizi Quello è stato molto figo Però finisci lì Cioè finché non arriva la cosa Anche Questa è un'altra cosa La gente spesso mi chiede Cosa ne pensi della serie TV dei signori Anelli Come faccio Esatto Come posso dare Cioè sì Sono contento che la stiano facendo Sono curioso Non vedo Non è vero Perché non ho più hype Per le cose Ho imparato Non aspetto più le cose Aspetto le cose Quando so che sono belle Aspetto che sia domani Per vedere la nuova puntata Di WandaVision Perché ho visto Le altre puntate Mi sono piaciute un sacco E quindi ho avuto Un metro di paragone Anche l'ultima La settima Ti è piaciuta? Sì 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 Ok ok Non facciamo spoiler Io ho storto un po' il naso Anch'io ho detto Che è stato un po' Underwhelming Per dire così Però è proprio La classica calma Prima della tempesta E va bene Cioè non è stata una brutta puntata No no Brutta puntata no È stato proprio un clima Ho il timore Che diventi ripetitivo Io ho già visto Tre quattro cose Che sono ripetute Spero che non diventi No secondo me no Alla fine Va bene va bene Vediamo Perché durano poco Quindi è possibile Però appunto Se tu non hai nulla Su cui giudicare Come fai A dire qualsiasi cosa Come fai a formulare Un pensiero Su qualcosa Che non esiste Perché quello che Cioè perché poi diventa Proprio Fai la cosa peggiore Ovvero ti crei Delle false aspettative Certo Che non verranno Mai E dico Mai soddisfatte Però poi mi rendo conto Del fatto che Io e te Diciamo questa cosa qua Però siamo la minoranza Perché la grandissima parte Del creatore di contenuti Anche su youtube Appena viene fuori Una roba del genere Ci fanno tre video Mezzo a piccolo E via dicendo Il tuo lavoro E va bene Però la ragione Per Ok Però anch'io Seleziono molto Tipo La cosa che è successa Prima di Harry Potter Sì Tutti Appena è uscita questa cosa Facci il video Facci il video Ma cosa dovrei dire Certo Non c'è nulla da dire Cioè io potrei aprire il video In cinque In dieci secondi Dire Ragazzi a quanto pare Ci sono dei rumor Che sono stati smentiti Direttamente Dalle persone Che si occupano Di quelle cose Sul fatto che Forse stanno pensando Di fare una serie Su Harry Potter Non saprei cos'altro Aggiungere Poi sì Io Ovvio che Io posso anche farti Un video di dieci minuti Parlando di qualsiasi cosa Perché ho sviluppato Quella capacità Ma è inutile Certo E io non voglio Creare Cioè io non voglio Prendere dieci minuti Della tua vita Per niente Certo Perché non vorrei Che tu prendessi dieci minuti Della mia vita per niente Questa Questa è una consapevolezza Importante Cioè I minuti Che sto chiedendo a te Spettatore Io li darei Per questo contenuto Una domanda che molto spesso Però non ci si fa online Non ci si fa perché Tu hai detto una cosa Giustissima Prima Pur non essendo in accordo Hai detto È il suo lavoro Ok Ma non è vero Perché in realtà Noi stiamo vivendo Un'epoca in cui Accanto al contenuto La stragrande maggioranza Delle cose Che vengono fruite Su quel contenuto Sono contenuti di rimando Sì Quindi sono contenuti Che rimandano a qualcosa Che rimanda a qualcos'altro Esatto E questo gioco del telefono Senza fili A me sta sulle balle Perché si perde sempre qualcosa Per strada Cioè Il fact checking Non Nel 90% dei casi Non esiste Perché Cosa succede Basiamoci sempre su questo esempio Perché proprio Posso parlare per esperienza Mi ritrovo 20.000 commenti 20.000 messaggi privati Persino mail Alla mail commerciale Di gente che dice Hai visto che stanno Hanno confermato La serie tv di Harry Potter Io dico No Non è quello che è successo Se tu andavi A leggere l'articolo C'era scritto Che è un rumor Che è già stato smentito Dalle persone dirette Poi sì Magari davvero Stanno lavorando Perché sarebbe stupido Cioè è ovvio che Prima o poi qualcosa arriverà Certo Perché sarebbe stupido Cioè sarebbe Nella società capitalista In cui viviamo È impossibile Che non arrivi prima o poi Una serie Su qualsiasi saga Perché è così che funziona E va bene Ma Devi prendere in considerazione La notizia per quello che è Non per quello che vuoi che tu sia Sì Sì Ed è quello Poi E lo so che ci fa piacere Che ci piace sognare Che noi vorremmo queste cose Però io cerco sempre di essere realista E dire In questo caso Non c'è nulla di cui Parlare Certo Cioè Anche a me Che cacchio ne so Piacerebbe parlare di nuovo Di animali fantastici Ma Sono due anni Che non c'è letteralmente Nessuna notizia Di cui si possa discutere L'unica cosa di cui Di cui ho discusso È stato Il caso di Johnny Depp Perché lì Max Mikkelsen giusto Diventerà Grindelwald È confermata Sì sì è confermata quella cosa Ok Però anche lì Cioè Io ho parlato della cosa di Johnny Depp Avevo fatto un video su questa cosa Quando è stato licenziato Perché lì Potevo creare del contenuto È successa una cosa È successa per una ragione Potevo dare le mie opinioni Sulla ragione Quando è stato confermato Mads Mikkelsen Laddove magari altri Avrebbero Avrebbero e hanno fatto 3000 video per questa cosa Per me era inutile Cioè era superfluo Certo Ci ho fatto un post Per dire questa cosa E per comunque comunicarla Perché ero interessato A discutere Anche nei commenti E tutto quanto Però fare un video Sarebbe superfluo Per dire Raga hanno confermato Lui come attore Certo certo Peraltro Mads Mikkelsen Io È una persona Persona Non un attore che amo Io ho detto spesso ad Ari Se io mi trovo davanti Mads Mikkelsen Tiro fuori la mia Omosessualità Cioè Assolutamente No no Non mi ho dico tutto per me Però adesso C'ho gli incubi A causa di Death Stranding Quindi Death Stranding Mi ha rovinato persino L'esperienza con Mads Mikkelsen Cioè gli incubi Comunque sì Questo è un punto Molto importante Il problema è che Di nuovo Molto spesso Questi sono contenuti Sono le serie Che sanno Che poi C'è questo rimando continuo Certo E c'è una consapevolezza Quindi molto spesso C'è anche C'è anche una proattività Da parte delle major A mandare fuori Dei leak Game of Thrones È stato palese Soprattutto nelle ultime Due stagioni Era palese Che li mandavano fuori Loro I leak Per far parlare Le persone Sulla base del nulla Sì ci sono molte Tattiche Più o meno discutibili Questo indubbiamente Perché appunto Si vuole che se ne parli Così come tutti i casi Dove vengono fatte Delle scelte Ma tipo Delle scelte Attoriali Discutibili Discutibili Perché diciamo discutibili Perché la gente vuole Che se ne discute Certo Io direi Anna Bolena Che è interpretata Da un'attrice di colore È una cosa che Cioè volente o non lente Poi a me non mi frega niente Però volente o non lente Lo fai perché vuoi Che se ne parli Certo assolutamente Ed è una tattica che funziona Sì sì Assolutamente Fai bene Ah peraltro su quello Io voglio dire una cosa Perché non mi è capitato Di trattarlo in due licogito Però ricordiamoci che Nel teatro Per esempio Da sempre questa cosa capita Sì Da sempre nel teatro Anche quello shakespeariano Uomini interpretavano donne Donne interpretavano uomini E infatti Una cosa per cui Io mi ero abbastanza incazzato All'epoca Quando era uscita Lo spettacolo Di The Curse Child Della maledizione Di Harry Potter E che Quando Era stata scelta Non mi ricordo il suo nome Un'attrice di colore Per farmi oltre Per fare il mione Mi ha dato un fastidio bestia Che la risposta della Rowling Non ho mai detto che Non ho mai detto che Perché vabbè Non c'era alcun problema Letteramente non c'era alcun problema Proprio perché il teatro Puoi farmi anche il mione uomo Esatto esatto Che mi chissà Su questo c'è C'è un ragionamento Che mi sta Disturbando molto In questo periodo Perché ci penso E non c'è una risposta giusta L'interscambiabilità Di generi Etnie Capacità Attoriali Da sempre nel teatro E anche nel cinema È parte integrante Non c'è nulla di male C'è un problema Quando poi per esempio Ti trovi con Il discorso della disabilità Perché Perché tu ti trovi Mi viene in mente Non so Il mio piede sinistro L'hai mai visto Uno dei primi film Con Daniel Day-Lewis Straordinario film Uno dei primi Interpretazioni È un capolavoro In cui lui Fa la parte di un disabile Oggigiorno Quella cosa lì Verrebbe contestata Perché in realtà La parte del disabile Deve essere fatta Da una persona Che ha quel tipo Di disabilità Lì si crea Una spaccatura Molto diversa Perché ovviamente Tu Puoi far sì Che una persona Senza Diciamo così Senza Senza disabilità Faccia la parte Di un disabile Non può avvenire Il contrario Che è ovviamente Un problema molto forte Però in tutti gli altri In tutti gli altri casi Non c'è niente di male Oggi Io in questi giorni Sto ridendo Perché vedo dei meme Tipo con Ryan Gosling Nella parte Di Nelson Mandela Ti fa spaccare Da ridere Quella cosa lì Per principio Non ci sarebbe Nulla di male Che le cose Andassero così Ovviamente non si fa Perché giustamente C'è anche una tendenza Da seguire Però il fatto Dell'interscambiabilità All'interno Del mondo attoriale Non è un problema Mi fa sinceramente Un po' Mi fa un po' ridere Il fatto che la gente Si infervori così tanto E ovviamente Le major lo fanno Per quel motivo lì Non ci sono altre No ma infatti Poi è tutta una questione Particurale Cioè Si fa sempre leva Sui sentimenti Delle persone E a volte Si porta Cioè È un azzardo Certo Guarda cosa è successo Con The Last of Us 2 Che lì Che lì Tra l'altro Non penso neanche Sia stata una cosa Fatta apposta Cioè semplicemente Loro hanno messo Una donna muscolosa E internet Esplosa Perché non va bene Iperreazione Io sto aspettando Perché Mi fa paura Questo sguardo Mi fa paura Questo sguardo Tu hai giocato Con Vora Quello nuovo Ci ho provato Sono arrivato A 12 ore di gioco Lo ho presente Lo ho presente Adesso Ci sono Si sta già discutendo Sul fatto che La gente Non vuole Neanche pensare Alla possibilità Che nel secondo Il figlio Atreus Sia omosessuale Ah ok 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 Perché Uno degli sviluppatori Su twitter Giusto l'altro ieri Ha detto Questa cosa Ha detto Guarda che Cioè lui non ha detto Non c'è nulla in piano Però guarda che Se la semplice idea Ti dà fastidio Hai un problema Hai un problema Sì sì Che poi Vabbè Ora non posso far spoiler Ma in realtà sarebbe Perfettamente sensata Come cosa Perché poi ti dico dopo Cosa intende Però non posso far spoiler Però per il personaggio Di Atreus potrebbe Letteralmente scoparsi Anche i cavalli E sarebbe Perfettamente Storicamente Nel personaggio Sono d'accordo Beh siamo Nell'ambito mitologico Esatto Vale todo Raga Sai Che fosse omosessuale Quando mai si è visto Un greco antico Omosessuale No Andiamo a prendere Platone Quando si parla Di amore platonico Con immagini Molto diverse Rispetto a quello Che si pensa normalmente Mettiamola così No sono molto d'accordo Cioè è sempre così Ed è appunto un alzardo Perché non sai mai Come una cosa può Sai su questo qua È un punto interessante Perché veramente Io credo che L'ambito della creatività È quello in cui vale Veramente Tutto quanto È un peccato Quando poi ci barrichiamo Perché Poi tutto il discorso Per esempio Non so Dell'attribuzione culturale Dell'appropriazione culturale In questo ambito La gente ha Troppi stimoli Cioè la gente ha smesso Di chiedersi Esatto Sta roba mi interessa Questa storia Questa serie Questa notizia Mi interessa Mi interessa perché Interessa a me Non mi interessa Perché interessa agli altri Invece Cazzo È incredibile Questa roba qua È incredibile È incredibile Esatto La cosa mi interessa Perché interessa agli altri Cioè perché Riprendo il caso di prima Di Anna Bolena Interpretata da un'attrice di colore Cioè il fatto che tu non sia uno storico Che magari sei Hai studiato Anna Bolena Tutta la tua vita Probabilmente la notizia Non te ne frega Ma per il fatto che se ne parla Allora anche tu Vuoi essere parte del discorso È quello È la malattia del trend E vuoi dire la tua Che Allora secondo me È una cosa giusta Voler esprimere la propria opinione La verità è però Che non tutti interessi La tua opinione A parte quello Ma se poi Esprimere la tua opinione Ti rovina la giornata Esatto Nel senso Ma pensaci due volte Cioè quella regola lì No Fra una settimana Prendi nota di tutte le cose Che ti fanno incazzare Guarda è questo Quello che la gente mi dice Quando io faccio il mio format Del X non ha senso Che è una serie Cioè un format dove Prendo un prodotto Lo demolisco e mi incazzo Che bello La gente Cioè in realtà la gente dice Ma non puoi prendertela per secco Non me la prendo ovviamente È divertente E lo faccio perché mi diverte Cioè perché se Se un prodotto mi fa Se un prodotto di intrattenimento Mi fa incazzare E mi rovina la giornata Vuol dire che ho fallito qualcosa di mezzo Assolutamente sì Assolutamente sì Non può essere Non può essere così Ci sono cose che magari mi deludono Certo Quello sì Certo Però alla fine Si tratta di cose Veramente veramente speech Che non hanno alcun valore Quali sono le più grandi delusioni Che hai ricevuto Dalla cultura pop Negli ultimi anni Allora Cominciamo con Finale di Game of Thrones Ok Cominciamo con Episodio 9 Ok Star Wars Prendiamo Però su Star Wars Quanto è stata divertente La guerra interna Al film Fra Snyder E Abrams Vabbè quello È stato È stato un oggo di dire Sai che Cioè fra i due registi Del settimo Perché sono diversi Scusami Scusami Ryan Johnson Dall'altra parte Ryan Johnson Volevo dire Scusami Cioè la guerra È una faida più divertente Delle faide interne al film È bellissimo Ok infatti la cosa che molti hanno detto Il film è stato una merda Però non è colpa Cioè la colpa è dietro Non è il film Ma quello che c'è stato dietro Cioè in realtà I veri villain Sono loro È una cosa Che mi manda i pazzi Quando ci penso È bellissimo Poi la canonizzazione Di Della maledizione dell'erede Che io continuo a dire L'avessero lasciato Cioè l'avessero lasciato Da parte Come storia a sé Per lo spettacolo Sarebbe stata perfetta Io voglio vederlo Prima o poi sono Quando cazzo si Li prenderà a viaggiare Quando mi capita Di essere a Londra Prima o poi Me lo voglio guardare Perché ci tengo particolarmente Sì 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 Però il fatto che L'abbiano reso canonico Mi è stato in culo Perché non ha Non ci azzecca nulla Cos'altro Vabbè però Lì è stato abbastanza più Eh mio dio Mi ha spettato I film dell'Hobbit Però questo Questo sparare sulla croce rossa Vabbè mio mio Però il primo Il primo a me è piaciuto Cioè il primo Secondo me si salva Non è Aspetta Lascia che Lascia che Si Si lavi questa onta Terrificante Ok quindi Detto questo Ah piaciuto è una parola grossa Il primo Ah già stai ritrattando No 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 Aspetta Cioè il primo Me lo riguardo E non voglio ammazzarmi Ok ok Gli altri due Ok Infatti non l'ho più visti Cioè il primo L'avevo visto forse due volte Gli altri mai più Cioè ce l'ho C'ho il cofanetto lì Che l'ho preso per Questione di Collezioni di completismo Mai Non so ne Forse non ho neanche tolto il cielo Fan pensa Ma insomma Si lascialo Lascialo le cose Magari un giorno lo rivendi Almeno Almeno avrà un valore Sai Su tutte queste cose qua E la La maledizione della Red Secondo me È il trionfo di questo Abbiamo secondo te vissuto Stiamo vivendo un'epoca in cui La fanfiction Sta diventando Non solo parte integrante Ma nel caso Ancora più importante Rispetto A ciò che è canonico Faccio un esempio I due videogiochi L'ombra della guerra E l'ombra di Mordor Sono di fatto Delle fanfiction E vorrei che lo specificassero Perché poi mi capitano robe Io che faccio il video Sulla storia di Shelob E la gente No Non Shelob Aragne Scusa E poi la gente mi dice Ma scusami Non era una Gothic girl Con le tette di fuoco No ciccio Sai che La mia reazione Davanti a quella scena Allora Io ho amato L'ombra di Mordor È un bellissimo gioco Un bellissimo gioco Io inizio L'ombra della guerra Appena presa la playstation 4 Io Il primo gioco Che ho cominciato È l'ombra della guerra Arrivo alla scena In cui Aragne Si trasforma E diventa Sta gnocca Di Non sai neanche Dove è venuto fuori Io ho letteralmente Ho lanciato via il joystick Che me ne sono andato Con l'aria che mi guardava Così come dire Cosa sta facendo Perché sei cazzato Perché è apparso la gnocca L'abbiamo perso È andata È andata Esatto Pensa a quanto Ho giocato contro Il mio stesso Sviluppo evolutivo Allora Io l'ho mollato Perché La struttura Non mi stava piacendo Noiosissimo Però è stato proprio questo Che Dico Però la fanfiction Sta diventando Cioè è Il tentativo Di rendere Dignitosa La fanfiction Sì Infatti Sai Io sto aspettando Davvero tanto Hogwarts Legacy Cioè il videogioco Proprio per la storia Proprio per la storia Perché il mondo Di Harry Potter Non mi piace Non mi piace Quello che sta facendo adesso Però Mi offre una fanfiction Sensata Nell'ottocento Peraltro Quindi Cazzo Cioè dice una figata assurda E questo Questo lo voglio vedere Quindi sì Credo che Come dici tu A un certo punto Certi fanfiction Possono anche essere Più valide Certo Del materiale D'origine Ma più che altro Perché alla fine Se tu sei un autore Tu avendo scritto un libro Lo sai benissimo Da autore tu Lavori molto di più Su quello che tieni fuori Dalla storia Che non a quello Che rimane dentro Assolutamente Tutto quello che tieni Dentro la storia Cioè tutto quello Che lasci fuori Dalla storia È veramente materiale Utile per E io credo che Non sia un caso Che nel novecento Con la nascita Delle grandi saghe Quella tolkeniana Quella di Asimov 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 è stato il primo Ad aprire il mondo Della fanfiction In modi incredibili Ma anche i racconti Di Dick Gli universi espansi Di King King stesso ha fatto Fanfiction Sulle proprie storie La torre nera Vabbè Tutto la ramificazione Di quello che c'è stato E poi sai che ci sono Fanfiction della torre nera Che collegano la torre nera Al signor degli anelli Ma questo non lo sapevo Oh sì sì No ma anche roba pubblicata Cioè adesso non mi ricordo I titoli Ma c'è gente Che ha pubblicato libri In cui All'interno della saga Della torre nera Trovi anche parti Della saga Della terra di mezzo Veramente Il novecento è stato Il secolo in cui Si è preparato questo Oggi viviamo un'epoca In cui la fanfiction Sta diventando Sta diventando Parte integrante Forse è dovuto anche Il fatto che internet Ha abituato la gente A dire I contenuti prodotti Dai lettori Dagli utenti Dagli spettatori Sono contenuti dignitosi Questo da un lato È interessante Dall'altro potrebbe aprire Un inferno incredibile Più che altro perché Secondo me È un imbuto Che deve essere gestito Molto bene Perché è giusto Aprire le porte Ma ricordati che Dalla porta Entra anche tanta Mediocrità Sì E devi stare attento Con quella cosa Anche perché Cioè a me capitano Soprattutto persone Giovanissime Che mi scrivono per dire Ah guardo Ho scritto questa fanfiction Di questa saga E vorrei pubblicare Lì dici Beh Non è così facile Perché stai trattando roba Che è già dei diritti Devi vedere Che livello qualitativo è Certo E un sacco di cose Che passano di mezzo Credo che sia comunque Un Come dire Un esercizio mentale Molto utile Perché Permette a tutti Di sognare E di fare quello che vuole E quello Non è mai una cosa negativa Poi ti esce magari La merda Però vabbè La legge chi la legge La scrive chi la scrive C'è un aspetto su questo Io Prima Prima dell'inizio della pandemia Accademia Orwell Facciamo Corsi di scrittura creativa Io lo faccio Fin dall'università Corsi di scrittura creativa E Io ogni volta In cui mi sono trovato Di fronte a persone Che mi dicono Ah guarda Ho scritto questa roba qua Io Rispondo sempre Ok ma Cosa hai letto Per arrivarci E Non solo perché Noi tutto quello che scriviamo Comunque lo traiamo d'altro E questo è evidente Lo copiamo Lo rielaboriamo Comunque È un remix Tutto quello che facciamo Esatto Ma soprattutto Mi rendo conto del fatto che Quando la gente scrive tanto In realtà fruisce molto di meno E mi trovo di fronte Al timore Di avere un mondo In cui La stragrande maggioranza Dei contenuti Prodotti Non sono più parte integrante Di qualcosa che è stato letto Ma proprio dovuto a quel fatto Che noi fruiamo Di contenuti Di rimando Di rimando Di rimando Sono convinto Anche perché non ho letto Di alcune cose Che evidentemente Sono fan fiction Di gente che non ha letto L'originale Quindi le fan fiction In realtà rischiano di essere Fan fiction Di fan fiction Di fan fiction Di reaction Ed è questa la vera problematica Secondo me Perché La user generated content Generation Che è molto bella Io stesso ne sono parte Siamo parte integrante Quello che facciamo Però porta con sé Questa cosa qua Che la gente Un libro Oggi lo compra E lo pubblica su Instagram Ma non lo legge E comunque Sulla base Della reaction Dello youtuber preferito Via dicendo Della recensione Ci scrive la fan fiction Ma non legge più Quella roba Esatto E questa roba qua È una roba Totalmente nuova Sì Sul fatto che sia Totalmente nuova E che questa cosa succeda Sicuramente È proprio una Allora Secondo me La fan fiction Come Come medium È molto interessante Perché Nasce da Un desiderio Sacro santo Ovvero Il voler Voler esplorare Di più Di un mondo Che ti è incantato Certo Però La ragione per cui dico Che secondo me È proprio impensabile Scrivere una fan fiction Senza aver letto Il materiale d'origine È perché Dal mio punto di vista Se questo desiderio Nasce dal tuo volere Espandere quel mondo E hai già Tutto quel materiale lì Che tu stai Volutamente ignorando Stai sbagliando Anche perché Se vuoi fare Un lavoro di qualità Devi sapere Il più possibile Quanto più Tu hai A tua disposizione Su quel determinato Argomento Certo Poi sì Io sono sempre Combattuto con dire Questa cosa Perché sono dell'idea Che Per quel che riguarda L'arte Cioè ognuno dovrebbe Essere libero Di fare quel che vuole Certo Se tu hai letto Si è visto Un film Del Signore degli Anelli E vuoi raccontare Ti sei fermato A metà Al consiglio di Erron E vuoi scrivere Tu il viaggio Che loro fanno La sbronza Esatto La sbronza Incredibile Vuoi farlo Fallo Assolutamente Potrebbe essere Qualcosa di interessante Che è uscito bene Probabilmente Sarà qualcosa Che uscirà male Perché ti mancano Le fondamenta Ti mancano Le basi Sarà una bella storia Ma difficilmente Sarà una bella storia Del Signore degli Anelli Certo Certo Però per questo Non vuol dire Che sia sbagliato Cioè Ci sta Alla fine Ognuno di noi Deve essere libero Di creare Credo che sia Proprio questo Cioè Credo che sia Proprio una delle cose Più belle Che ci sia Vedere una persona Che si gode qualcosa Fruisce di un determinato Prodotto Il suo primo istinto E dire Caspita È stato talmente bello Che voglio rifarlo Anch'io Certo 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 Sai Questo porta Io sono d'accordissimo Su questo Perché l'ho fatto Anch'io Cioè nel senso Io ho scritto un sacco Di fanfiction Quando ero adolescente Per fortuna Non sono più ritrovabili Fanfiction erotiche Di Sonic Assolutamente No Sonic Mi ha sempre fatto cagare Più di Super Mario e Peach Devo dire Quello sì Però È Todd in mezzo Ovviamente Non è un piccolo giocatto erotico Utilizzato da entrambi In modo assolutamente coercitivo Peraltro da qui ci dissociamo Un comportamento che non si mantiene Comunque dicevo Il problema è che Questo aspetto Del dire La prima cosa che faccio Quando Leggo una storia Vi dicendo È Produrre la mia versione O la mia continuazione È direttamente collegato A tutta una serie di elementi Che su internet dominano Il Per esempio La disabitudine A Ad andare a cercare le fonti Quanto mi informo Sì È parte integrante Di questa cosa qua Perché? Perché in realtà Ci siamo dimenticati Che informarsi È una costruzione gerarchica Cioè tu devi Incontri l'informazione A Devi andare a trovare Le fonti A1 B1 C1 Che poi ti portano Il più possibile Vicino ai fatti Questa cosa qua Della fanfiction Quindi io Produco liberamente Che è una cosa che ripeto È comprensibilissima Però senza La capacità Di collocare Quello che hai fatto E tu riesci a collocare Quello che hai fatto Quando hai letto tante cose Cioè riesci a dare Il valore di quello che hai fatto Quando hai letto tanto Fondamentalmente Porta quella filosofia Dell'uno vale uno Ok Che rende indistinto tutto E rende impossibile Poi Orientarsi In questa cosa qua Comunque Guarda Giusto perché Siamo in storia Io ti dico Il mio libro È In realtà È nato Grazie a una fanfiction Di Harry Potter Perché Un po' di anni fa Avevo cominciato Su Su Youtube Questa serie Che si chiamava Il Memorarium Dove Che era essenzialmente Una fanfiction Di Harry Potter Che era Un po' strano Perché secondo me Devo farci un video Sta roba E io interpretavo Questo personaggio Della fanfiction Che tipo Ritrovava Perdeva la memoria E ritrovava il suo vecchio diario E leggeva Dal suo diario La sua storia Ad Hogwarts Ok Ed era Avevo scritto Avevo cominciato a scrivere Questa storia Parallela Cioè Non c'entrava nulla Con gli eventi Di Harry Potter Semplicemente Era ambientato Sempre Con un personaggio Totalmente inventato Che arrivava a Hogwarts Nello stesso anno di Harry Però faceva cose tutte sue E l'avevo anche fatto E l'avevo anche fatto Tassorosso Perché è l'unica Casa che non era mai Stata vista E quindi ho detto Posso fare il cazzo Che mi pare Sfigati Tassorosso Mai raccontati A nessuno Io gli ho fatti I belli divertenti Festaioli Che tipo andavano A rubare dalle cucine Facevano feste Bastardi Ok Però Allora Quella cosa Era Scusami Un Tassorosso Tassofrasso Bravo Non lo dirò mai Non lo dirò mai Fa male dell'animo Non riuscirò mai Ad abituarmici E appunto Io ho cominciato A scrivere questa cosa E a portarla Su 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 YouTube Ed era piaciuta molto Ai Pochi che mi seguivano Allora Perché si parla veramente Tanti anni fa E ho cominciato a scrivere A fare puntate A scrivere tutto quanto E la gente Mi ha motivato molto Perché alla gente Piaceva davvero tanto E Per Ora Non per Per vantarmi Perché in realtà Cioè la riguardo adesso È una cosa stra mediocre Però A livello di contenuti Di quello che succede Molti mi dicevano Mi sembra di stare effettivamente Leggendo il libro di Harry Potter Perché Perché Io conoscevo I libri di Harry Potter Come le mie mutande Certo Conoscevo Il metodo di narrazione Il metodo di scrittura Come si comportavano i personaggi Quali erano gli ambienti Le regole Tutto quanto Sai che per conoscere tanto Le proprie mutande Bisogna portarle a lungo Quindi non è esattamente una cosa Ma insomma Vabbè a parte quello Puoi andare avanti E E appunto Ero Comunque Le persone mi hanno detto Scrivi bene Perché non pubblichi sta cosa Perché non posso Cioè anche Però è da lì Che la gente Con le persone che mi dicevano Ah scrivi bene Ho detto Cioè è comparsa Quella luce Che io sempre Ma a me sarebbe sempre piaciuto Fin da quando ero ragazzino A scrivere Però pensavo di far cagare Faccio ancora cagare Tra l'altro Non mi preoccupate Però sai Ho avuto qualcosa E ho detto Ok magari se pubblico qualcosa C'è la gente che effettivamente Sarebbe interessata A leggerlo Quindi io devo molto Le fan fiction Perché sono partito da lì No ma guarda Io credo che sia Allora è uno straordinario È una ricchezza incredibile Apri un sito di fan fiction Ci puoi passare settimane A leggere E ridere comondemente Cioè nel senso Ci sono cose Sono straordinarie Ne ho lette E ne ho anche scritte Di tutti i colori Quindi Solo che ora Arrivato a un certo punto Mi rendo conto Del fatto che Si è arrivati talmente in là Che le fan fiction Sono diventate in realtà Produzione mainstream Molto spesso Io ti dico Anche episodio 7, 8, 9 Di Star Wars Da un certo punto di vista È fan fiction Il fatto che sia autoriale Non le rende meno fan fiction Certo Ok Ora qua si scatenerà l'inferno Perché lo so già Domani cosa troverò sotto Al video di YouTube Dopo che ho detto questa roba Però in realtà Episodio 9 merda Ecco perfetto Abbiamo Abbiamo reso ancora migliore Questo 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 evento E E mi rendo conto Che arrivato a un certo punto Bisogna tornare A dare Criteri di selezione Cioè c'è bisogno C'è bisogno Di Creatore di contenuti Di Fonti Di cose che ti dicano Guarda Tu hai questo Mare Nostrum Di cose Non abbiamo mai avuto Così tanta produzione Di contenuti Nella storia umana Fermati E domandati Sta roba fa per me Questo fa per me Magari scopri che hai Ascoltato e letto Un sacco di roba Nella tua vita Che non ti piaceva E che hai letto Ascoltato e visto roba Perché lo facevano gli altri E lì si tornerà Ad avere secondo me Un po' di ordine E dire Ok Adesso riesco a distinguere Fra le cose Posso comunque leggermi Le fanfiction Le cose user generated E via dicendo Però quella è una roba E poi i libri di Philip Roth Sono un'altra cosa Cioè nel senso è quello il punto Sì no certo Bisogna riuscire a mettere Un paletto E definire le cose Quello che credo Che sarà sempre importante Questo appunto Non vuol dire che Non ci siano prodotti User generated Come detto tu Che siano migliori Anche dell'originale Ma ogni scrittore Nasce da user generated content Certo Solo che poi Ha un salto Che è anche Misurabile Da un certo punto di vista E questa roba qua Invece Invece rischia Di prendere la deriva Mi rendo conto Che avremmo un mondo Se le cose continuano Così sempre più pieno Di piccoli autori E di conseguenza Sempre meno lettori Ma perché ogni autore Va sempre meno tempo Per leggere E questa è la cosa Io infatti non leggo più un cazzo Ma come non legge più un cazzo? Io non leggo più un cazzo? Perché sono depresi Cazzo ne so Ma la depressione si combatte Con la lettura Non è il contrario Tu leggi perché Sei in un momento di difficoltà Ma perché non ho voglia Di leggere Capisci? Ma va a cagare Ti giuro Ma va a cagare Ti giuro Ma non è vero Ma frate Ma dai Non so C'è una dipendenza Di videogio Passo tutto il mio tempo Davanti al computer Ti do due o tre consigli Dopo Ti do due o tre consigli E ci provi E riparti È per quello Che non stai scrivendo Cazzo Lo so Lo so benissimo È un circolo vizioso Che non scrivo Perché non leggo Rompiamolo Questo circolo vizioso Ma prima di romperlo Per chiudere la cogitata Tre libri Che secondo te Sono imprescindibili Per chiunque È in ascolto Tre libri Che ti hanno dato tantissimo Magari fra quelli Che non abbiamo citato Madonna che palle Quando fate ste domande Tutti La gente entra Qual è il tuo libro Qual è il tuo film preferito Perché in realtà Me ne dimenticavo sempre Di questa domanda Fino a due o tre cogitate fa Adesso me la ricordo sempre Perché altrimenti mi ammazzano Sì ma io vado sempre Sapi che mi hanno imposto Di farla questa domanda Comunque io voglio dire Contro la mia volontà Vai No io vado sempre nel panico Quando mi fanno queste domande Perché non riesco mai A A selezionare Perché Anche perché poi c'è Dalla classica cosa Che Non ti ricordi più niente Di quello che hai letto Nella tua vita Dimmi un Un nome maschile Giovanni Dai Giasio Esatto Una roba del genere Però Allora Secondo me Uno Scontato me lo devi Concedere Che è stato La pietra filosofale Ma perché è stato Letteralmente il primo libro Che ho letto Ed è quello che davvero Mi ha fatto Innamorare Della lettura La ragione per cui Da bambino E da adolescente Ho letto tanti Soprattutto da bambino Leggevo tutto il giorno Ogni settimana Nella biblioteca A prendere libri diversi E lì ero Andato Spedito come un treno Perché proprio Mi aveva Mi ha aperto un mondo Da quel punto Letteralmente Sì 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 Mi ha influenzato Un sacco In tutto quello Che ho fatto Da lì in avanti Però poi Sai è proprio questo Che io mi trovo Sempre difficile Quando devo selezionare Alcune cose Perché Sono Cioè secondo me Tutto ha importanza E niente lo ha Non sono Non raramente Delle cose Che dico Minchia Questo mi ha fatto Cambiare Totalmente Tutto quello Che 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 abbia mai letto Prima d'ora Abbia visto Visto prima Prima di adesso Tendo più Magari a ragionare A serio A saghe Ok va bene Va bene anche quello Va bene anche quello Che tu le guardi E dici Questo mi ha cambiato Questo Quest'altro no E Però appunto Io Lo so che tu dici Non robe che abbiamo Nominato Ma io Sono quelle che abbiamo nominato Sono quelle che ho nominato Per forza Perché io ho preso le mie passioni E le ho trasformate in un lavoro Certo 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 Perché sono le cose Che mi hanno Mi hanno Segnato Mi hanno segnato di più E le cose Che mi hanno dato E a cui ho dato Secondo me Di più Poi Secondo me C'è C'è sempre la questione Che non bisogna esagerare Nel senso che Se io dico Adoro la saga Del signore di anelli Però Finisce lì C'è Un libro Sono dei libri Dei film Che adoro riguardarli Mi intrattengono un sacco Però Non ho mai finito di leggere Silmarillion Ah ok Perché Perché Non ne ho mai sentito il bisogno Magari intanto leggo qualcosa Ci sono momenti in cui Mi si riattiva questo bisogno Ci sono 3000 robe di Tolkien Che non ho letto Certo certo Perché Non lo so Non mi interessava Non ne sentivo il bisogno Non avevo la sbatta Che ne so Certo certo Pur amando alla follia Quello che ho letto Perché non sempre Perché a volte Ti puoi godere una cosa Dicendo basta Sì sì Assolutamente Cioè non sento il bisogno Di sapere ogni singola cosa Di passato presente E futuro E me lo sono goduto Poi tra l'altro Sai cos'è Credo che anche qui Si ritorna al discorso Che facevamo prima Avere poche cose Vuol dire che Ti godi maggiormente Quelle cose C'è La ragione per cui Per esempio Dal punto di vista Della saga di Harry Potter Mi piaceva sempre Scoprire cose nuove E perché erano Poche cose Oltre alla saga Dei sette libri Quando poi Per esempio Su Pottermore Faccio l'anima sua La Rowling Aveva cominciato ogni tanto A scrivere dei piccoli articoli Che ti raccontavano Paginette Sulla storia Di alcuni personaggi Quello mi interessava Già di più Lo seguivo con Una maggiore morbosità Proprio perché C'era carenza Ho capito Proprio perché dicevi Non ho mai saputo niente Su questo personaggio Dammi un po' Certo Mi avesse scritto un libro Su quel personaggio Non l'avrei letto Probabilmente Perché non ne volevo Così tanto Sì 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 Capisco Ma Da quel punto di vista Sì Poi vabbè Tu hai detto libri Sto pensando Ad altri Ad altri libri Perché Per ora Solo due Dai Dimmi i tuoi intanto Così I miei Così intanto che ci penso Così vuole rubare Le mie idee Non penso proprio Che avremmo gli stessi Lo sanno perfettamente Perché io Solaris Romanzo della vita Cioè proprio romanzo Che mi ha salvato la vita Solaris L'ho detto in un momento In cui veramente Ero nella merda Fino al collo Mi ha stravolto Completamente Romanzo incredibile Poi Matatòi numero 5 Di Kurt Vonnegut Altro romanzo Spettacolare Che io consiglio sempre Infatti Sellerio E Feltriene Mi devono un sacco di soldi Per quante copie Di questi due libri Ho fatto vendere E poi il terzo Il terzo Ti direi Viaggi di Gulliver Viaggi di Gulliver Perché è stato il primo libro Che ho veramente amato Nella mia vita E E mi ha fatto capire Quanto Quanto la letteratura Sia concreta Guarda Vedi che mi hai aiutato Perché mi hai fatto venire in mente Un'altra cosa Robinson Crusoe Bellissimo E io l'ho adorato Da bambino L'ho letto tra l'altro Che Ero tipo 8-9 anni E E Mi era piaciuto davvero Un sacco Credo che da lì Che è nato Un po' La mia passione Per il Per il genere survival Probabilmente la ragione Per cui mi sono goduto Così tanto Lost E perché No perché non ti è piaciuto Lost A te Prime due stagioni Mi sono piaciute Poi Loguate per Decomposizione Intellettuale Cioè sì ci sta Adesso fare i rewatch Quando faccio i rewatch Perché ogni tanto lo faccio Ne vedo I rewatch di Lost Perché ogni tanto così What the fuck Va bene no No vabbè Gli avranno fatti due Già gravissimo Ma non importa Stai aggravando la situazione Però appunto Lost Non me lo sarei mai goduto Certo certo Non fosse stato Robinson Crusoe Sì sì Non lo capisco Perché è stato Cioè La fantasia Dell'essere Per quanto non vorrei mai Ditori amici Dell'essere sperduti Su un'isola Del self made man Della sopravvivenza E tutto quanto Della natura Wilson Non Cioè quello Mi ha affascinato tantissimo Perché Credo che sia in assoluto Il libro che mi ha fatto Di più Innamorare Dell'avventura Perché era molto più Diretto Laddove magari Che ne so Che è crudo Sotto alcuni punti Tipo ho letto 20.000 legge sotto i mind Quando ero ragazzino Mi è piaciuto Però Mi ricordo Che la mia prima lettura C'erano certe parti Tipo le parti dove Elencavano 3.000 animali Tutto quanto Molto tecnico Molto scientifico Per il me di Sette anni Che cazzo me ne fregava No Avevi sette anni Quando hai letto quelle parti Non è un libro da sette anni Lo so però a me Cioè io cercavo tanti No certo Ci sono Ecco quello per esempio Un libro Che a sette anni Potrebbe essere letto Nella sua versione Letteralmente per bambini Esatto Quella con le parti di avventura E poi lo riprendi Secondo me dopo i 16 17 anni Quello è un libro Da riprendere Certo Ma Però mi affascinava Perché era Il concetto di avventura Sì sì L'esplorare i nuovi mondi Mi attirava un sacco E Hai mai letto Gulliver allora? Gulliver no Il viaggio di Gulliver Non l'ho mai letto in termine Ma prendetelo Straordinario Straordinario Cioè sono un sacco di cose Perché l'ho studiato Ti piace quel genere Ti piace quel genere lì Straordinario Straordinario Uno di capolavori Prenditelo Eh ma io sì Perché sono sempre stato Più da Verne Te lo godrai Te lo godrai Sono più stato da Verne Poi anche c'è quella Quella satira Cruda Sì 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 Dentro che è Che è veramente Tagliente Tagliente L'ho studiato Perché è L'ettoratura inglese Eh ma quando sai Quando a scuola si parla di Gulliver Si parla di Gulliver Con i Lillipuziali Esatto Ti dimentichi che c'è una scena In cui lui piscia sul castello Per spegnere l'incendio Piscia praticamente in testa Alla principessa E alla sua concubina Che non è esattamente Una scena che fai vedere A un bambino di otto anni Capito? Sì sì certo Certo Cioè ci sono È un libro È un libro estremamente caustico Gulliver Per quello io l'ho letto Molto presto Io mi ricordo che Eh vabbè Senza spoiler però Tu finisci Eh Che fondamentalmente Eh Dopo vent'anni E la mia famiglia Mi sembra un branco di maiali Ok Cioè c'è una frase Molto simile a questa Dici cazzo E ho chiuso il libro E ho guardato la mia famiglia E ho sentito al tempo stesso E avevo 12-13 anni Ok Ho sentito al tempo stesso Amore e odio Perché Gulliver è questo Gulliver è un atto di amore Sfrenato nei confronti dell'umanità Cioè è un libro Veramente umanista Sì Però con uno sguardo cinico Con i confronti Di difetti dell'umanità Che non ce ne risparmia una E quindi Hai questa ambivalenza E dici Io Amo E odio L'umanità E E quando ti incontri Con questa roba qua Non riesci più a farci i conti Devi risolverla Infatti non l'ho ancora risolta Io Cioè io amo E odio l'umanità E colpa di Gulliver Penso che sia normale Colpa di Gulliver Colpa di Gulliver Eh va bene Quindi il terzo libro Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho detto Non mi sono cruso Era il terzo Eh beh perché T'ho detto Harry Potter Ho detto il signore di Anelli Ah ok Il signore di Anelli Era il secondo Ah ok Ok Allora a posto A posto E beh sì perché il signore di Anelli Te la sei scampata Mi ha dato il fantasy Te la sei scampata Hai visto È stato un piacere cogitare con te Il signor Kalel Anche bello Molto molto bello Veramente bello E adesso se voi siete in live Non andatevene Perché non solo Leggiamo alcune domande Della chat Ma apriamo anche la chat vocale Così chiacchieriamo Per 10 minuti e un quarto d'ora E potete anche insultarci Se invece siete indifferita Beh in descrizione trovate i link Al canale di Adrian E trovate anche i link Ai libri che abbiamo Un po' di libri che abbiamo citato E mannaggia voi Che non siete state con noi in live Però sappiate Che potete tranquillamente Venire a trovarci in live su Twitch Siamo sempre In live due volte al giorno Alle 12 con il rassegnata stampa Alle 18 o alle 21 Con il Daily Cogito Vi ricordo che domani C'è la live monografica Su Darwin Quindi venerdì 26 febbraio Alle 21 su Twitch Monografia su Darwin Da non perdere E la seguirei anche tu? Certo che la segui anche tu Vero Così ti fa una cultura Cazzo Ti metto il secondo schermo Al momento gioco a League of Legends E il bestemmio Sento la vita di Darwin Così mi rendo conto Di quanto siano delle scimmie Sottosviluppate Quelli che sono in squadra con me Non si dice questa cosa Non si dice questa cosa Non si dice Povere scimmie Povere scimmie Grazie a tutti Grazie Kalel Grazie a te Buona serata E non è tutto noia Ciò che pensa Ma ho fatto tardi Andate in merda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti